Il Rimini continua a muoversi sul mercato per rinforzare una rosa che in questo momento, nonostante la vittoria contro la Ferral Pisalò, stazione in ultima posizione in classifica. Presentati Letizia e Agnello, ora il Rimini toglie i veli su Lorenzo Paramatti, difensore classe 95 proveniente dalla Politi Misuara, e su Ettore Mendicino, attaccante classe 1990 con addirittura quattro gettoni di presenza in Serie A con la maglia della Lazio. In questo momento qui, sia per il mio passato recente, sia per la mia carriera, avevo bisogno e ho bisogno di una sfida, di un qualcosa che mi metta alla prova e per questo Rimini ha rappresentato questa opportunità. Intanto i Biancorossi hanno anche ufficializzato l'acquisto di Cesare Embrosini, difensore classe 90 che si è già aggregato al gruppo, ma domenica non sarà a disposizione per squalifica, e Lorenzo Remedi, centrocampista classe 91 che invece sarà già a disposizione, soprattutto con il minutaggio sulle gambe, viste le 19 gare su 20 disputate con la Gianna Erminio, collezionando addirittura due reti. In uscita, oltre alla rescissione di Danso, il Rimini ha ufficializzato il passaggio di Petrovic alla Provercelli. Le sensazioni, come ho sempre detto fin da quando sono arrivate, sono molto positive. Vedo che c'è tutto per poter riuscire ad ottenere l'obiettivo, cioè la salvezza.